Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti come sempre ai nuovi iscritti, oggi un video diverso dal solito. Credo che sia uno dei video più richiesti sul mio canale, diciamo che è un video che ho deciso di mostrarvi qua e non su Instagram, perché me lo state chiedendo da anni, nonostante io abbia risposto spessissimo tramite le storie e soprattutto anche tramite vari commenti sotto video vecchi. Comunque ho deciso di passarvi qua le clip che avevo registrato tramite le Instagram Stories, perché all'inizio avevo pensato di mostrarvi come pulisco, come faccio a tornare nuovi i miei gioielli Tiffany su Instagram, ma visto e considerato che davvero è una domanda gettonatissima, ho preferito utilizzare una piattaforma più ampia come YouTube. Per cui ho salvato i video, non ve li ho mostrati su Instagram appunto, vi lascio qua comunque il mio nome, mi trovate sempre sotto alla Fashion se vi fa piacere seguirmi anche lì, e ho preferito tenermi queste clip e mostrarvele direttamente qua, in modo tale da avere un video sempre disponibile per tutti coloro, tutte coloro, soprattutto penso che sia un video dedicato a noi donnine, potete trovare sempre questo video sul mio canale, perché sì, su Instagram si possono salvare tramite i video, in evidenza, però per quanto riguarda questa benedetta domanda, ossia come tengo puliti, come porto a nuovo i miei gioielli Tiffany, insomma ho preferito pubblicare questo video tramite YouTube e non tramite le Instagram Stories, ecco, per cui ogni volta che qualcuno dovesse ripropormi questa domanda, che non vi dico che è all'ordine del giorno da anni, ma quasi, vi passerò il link diretto al video che sarà sempre disponibile sul mio canale, insomma YouTube. Voglio accontentare tutte coloro che spesso mi chiedono come tengo puliti tutti i miei bracciali, charms e quant'altro. Allora, contate che quelli che mi vedete sempre addosso, comunque i pezzi che metto più spesso, li tengo al 99,9% sempre al polso, faccio la doccia senza nessuna remora, basta dare una passata con spugna e bagno schiuma, vi garantisco che escono splendenti. Invece ho dei pezzi che non uso anche da anni, tipo questi, charms, bracciale e anche questa collana, credo che siano insomma parecchi mesi che non indosso, che non usandoli frequentemente e tenendoli, attenzione, io li ripongo sempre nel loro sacchettino e scatola all'interno di un cassetto, si ossidano, come potete vedere, l'argento 925, l'argento puro, dopo un po' che non viene utilizzato, si ossida. Quindi, domanda lecita, come vado ai ripari in questo caso con un prodotto di questo genere? Questo è della Stenom, è un prodotto che potete comprare tramite delle rappresentanti, insomma Stenom penso che la conosciate un po' tutte. In questo momento ho terminato il mio amatissimo Argentil, che invece lo comprate tranquillamente al supermercato, che ha la stessa funzione, è sempre in crema, va usato assieme a una spugnetta di questo tipo, molto morbida, che serve per spalmare appunto la crema sopra ai prodotti ossidati. Io almeno li lascio un attimo in posa, dopo li vado a risciacquare con acqua, successivamente anche con un po' di detersivo per i piatti e vi garantisco che torneranno splendenti. Comunque, dopo vi faccio vedere il risultato. Questa è la quantità che metto sopra alla spugnetta che avete appena visto che ho sciacquato sotto l'acqua in modo tale da ammorbidirla. E adesso vado a strofinare un po' il ciondolo. Guardate. Dopo ve lo faccio vedere comunque risciacquato e asciugato. È lucidissimo, è già lucidissimo. Aspetta, se mi seguite anche nei miei video ve lo straconsiglio, è il V5 che trovate da Lidl, ma insomma potete usare anche quello che avete in casa. Comunque vedrete il risultato. Sono già splendenti, ma usciti da negozio dopo tutti questi passaggi. Guardate. Splendenti. A parte, vabbè, riflessi, portate pazienza, ma direi che sono come noi. Ragazzi, come avrete ben visto, mi auguro sia stato, insomma, esaustivo, nonostante non fosse un video a 360 gradi come ora, ma avete visto delle clip, però insomma credo che si siano capiti, si siano capiti, insomma, i passaggi. È davvero facilissimo. Ricordatevi, forse quel pezzo l'ho tagliato, che l'ultimo passaggio è quello di, una volta tolta la crema che avvolgeva, insomma, il vostro gioiello, è quello di risciacquarlo sotto acqua tiepida e ripulire il tutto con un po' di detersivo per i piatti. Nel mio caso è il mio amatissimo V5 di Lidl, ma va benissimo qualsiasi detersivo per i piatti che avete a casa. Ecco. Nel frattempo sono andata al supermercato a comprare il mio preferitissimo Argentile. Ve lo faccio vedere. È lui, lo trovate ovunque, per cui reperibile. Posta, credo, tra i 5-7 euro, forse dipende dal supermercato dove lo trovate. È sempre in crema come quello della Stenom ed è topissimo. Ecco, questo video non vale solo per i Tiffany, ovviamente vale per tutto ciò che può essere, come dice appunto anche la confezione di Argentile, argento, silver plate o oro. Cioè, top, davvero, va benissimo per tantissimi materiali. Spugnette, ragazze, vanno benissimo anche queste, è sempre della V5, ovviamente dalla parte morbida, eccolo da quella abrasiva. E invece, l'altro panno che uso è questo, ha due facce che trovo, trovate dappertutto, il mio è sempre T-Lidl, io li prendo lì, che uso anche per poggiarlo sul fondo del lavandino in modo tale che quando sono poggiati tutti i gioielli, magari non vanno appunto a graffiarsi con il lavello, ecco che magari non è il luogo ideale dove magari poggiare degli oggetti lucidi, come nel mio caso possono essere dei charms, insomma, preferisco sempre adagiarli su un panno morbido. Altra cosa che dimenticavo, che sicuramente vi ho detto nella prima clip, è che il metodo migliore per mantenere, partendo da una base di gioiello lucido, barra pulito, ma comunque non ridotto come quelli che vi ho mostrato nelle clip, quindi straossidato, è quello di farsi la doccia. Io faccio tranquillamente la doccia con tutti i miei bracciali, anche se hanno pietre, pietrine, brillantine e quant'altro. So che molti di voi hanno paura, soprattutto quando indossano i Pandora. Quando li avevo, perché sapete che Pandora non ce l'ho più da diversi anni, mi aveva stufato, per cui ho venduto tutti i bracciali che avevo, facevo sempre la doccia tranquillamente. Quindi li strofinavo, li ripulivo mentre lavavo me stessa, con il bagno schiuma. E ragazze, tornavo fuori che avevo il braccio che luccicava. Per cui, ecco, altra cosa che faccio, perennemente, avendoli sempre addosso, ribadisco, parto da una base di braccialetto abbastanza pulito, abbastanza lucido, per cui il mantenimento è quello di lavarmi con loro. Ok? Invece, quando avete un gioiello davvero ossidato, davvero brunito, diventato scuro, usate, insomma, i passaggi, guardate, insomma, le clip che vi ho lasciato qua. Questo video sarà sempre qui disponibile, l'avrò detto mille volte ormai, per cui, nulla. Spero davvero che sia, insomma, risultato un video interessante, e niente, vi abbraccio, vi aspetto sempre qua, qualora vi faccia piacere continuare a seguirmi, in un prossimo video. Ciao a tutti!